Nonostante il Medioevo si sia concluso da circa cinque secoli, alcuni scampoli di mentalità retrograda del periodo buio continuano ad albergare in diversi individui che nell'anno 2022 respirano sul globo terraqueo. A riprova di ciò ci sono gli agghiaccianti commenti che qualche leone da tastiera ha rivolto a Vanessa Incontrada nei giorni scorsi, dopo che l'attrice spagnola ha avuto la colpa di aver postato sui suoi canali social, uno scatto in cui si è immortalata mentre era intenta a fare jogging. In particolare si sono fatti vivi i soliti odiatori seriali che hanno bersagliato l'iberica con commenti agghiaccianti circa la sua forma fisica. A ciò si è aggiunto un altro episodio, più sottile e controverso, il magazine nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha sbattuto sulla copertina della rivista una foto in cui la incontrada è stata ripresa in bikini. Lo scatto ha fatto discutere perché secondo molti l'intento di chi lo ha pubblicato è stato quello di fare body shaming. E non certo quello di pubblicare una semplice foto rosà. Su Instagram, sotto al post, si è scatenato l'inferno, con Signoretti che è stato raggiunto da una raffica di critiche. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.